Alla guida di carte elettrici per avvicinare i più piccoli ai temi dell'educazione e alla sicurezza stradale in modo originale, interattivo e soprattutto divertente. E' così tornata ad Arezzo l'iniziativa promossa da ACI Karting in Piazza dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni. A far da teatro alla manifestazione il piazzale dello stadio di Arezzo, trasformato per l'occasione in un laboratorio di formazione e educazione al rispetto delle regole. Quindi questo è un modo per cercare di fargli comprendere fisicamente come si affronta una curva, come si preme un pedale e che cosa succede quando si preme il pedale, quando si frena e quant'altro. E' un qualcosa di concreto perché noi crediamo che la sicurezza stradale non si possa imporre ma si debba condividere. Parlando con questi ragazzi in modo semplice e facendogli provare per la prima volta un kart, crediamo di aver stimolato l'attenzione su questo fatto che la cultura della sicurezza stradale si impara anche a scuola, soprattutto si impara quando non si deve prendere la patente. I piccoli allievi delle scuole primarie e retine sono così pronti a diventare testimoni e ambasciatori delle 10 regole d'oro della sicurezza stradale. E' stato importante anche la presenza della polizia municipale con il comandante Aldo Poponcini che scherzando con i ragazzi ha ricordato alcune regole della strada, ha chiesto un favore ai bambini di ricordare ai genitori quando sono in macchina insieme di evitare l'uso del cellulare, di tenere la cintura, di avere una velocità moderata. Quindi tutti insieme cerchiamo di fare la sicurezza stradale perché la strada non è un luogo pericoloso, lo diventa con i comportamenti sbagliati delle persone.